L'oggetto Piccoloni, il romanzo di Enzo Capiti, edito da Elemento 115, descrive e inquadra le relazioni che dicono un gruppo di persone esposte all'incertezza e alla fluidità dei sentimenti, al disincanto e al disordine delle identità, al gioco degli riflessi fra immaginario e reale. Ha scritto Giacomo Fartiglio, si pratica di dramma, certo, ma con toni e colori di una messa in scena trasparente e luminosa. Non sono in campo? Verrebbe da dire una tragedia che ha in sé il ritmo di una ironica pacificazione. Così non si può fare, veramente.